Salve signorina, sono il dottor Steph, che problemi ha quest'oggi? Mi dica un po'. Mal di Steph. Mal di Steph. È una malattia molto rara, però ne soffro. Allora, io conosco il che bello Steph, il oh che fortuna è arrivato Steph, o quanto è bello Steph, però non ho mai sentito nominare il mal di Steph. No, l'ha sicuramente sentito nominare, oltretutto sa che cosa c'è di molto importante. Ok, mi dica. Steph, un camice non fa di te un dottore, io te lo vorrei dire, però non ci rimanere male mai così, mi dispiace. Stai scherzando? Ma l'hai visto quanto è professionale fare? Ha pure il colletto, guarda, guarda, c'è il colletto qui. Se non sono io un dottore, spiegami chi lo è. E ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph, che si chiama Wunderdoctor. E oggi siamo qui con un nuovissimo gioco appena appena uscito, in cui vestiremo i panni di un dottore, dottore però serio, che dovrà curare dei pazienti molto molto particolari. Non saranno pazienti normali, Steph, ti devi preparare bene. Non saranno normali come non è normale il mio camice. Esatto, quindi come non sei normale tu, non sono normali loro. Dato che i pazienti saranno dei mostri, questo è l'unico motivo per il quale ci permettono di fare i dottori. In ogni caso, secondo me, Feren, possiamo partire perché qua ci sono un sacco di persone che hanno bisogno di essere curate. Quindi iniziamo il gioco e vediamo un pochettino cosa dobbiamo fare. Questo qua, ovviamente, è il nostro ospedale. È mobile, Feren, perché così andiamo in tantissimi posti a curare tutti quelli che ne hanno bisogno. E questo è dove noi lavoriamo. Con questa campanellina noi chiamiamo i nostri pazienti. Come potete vedere, non è proprio un essere umano normale. Cioè, secondo me, è uno zombie, Feren. E anche secondo me, non lo vorrei criticare, ma mi sembra proprio uno zombie. E ha qualcosa che non va sulla faccia. Che dici, Stef, lo curiamo? Ma il naso. No, dai, allora, non puoi criticare i pazienti. Sei benissimo che stai facendo il dottore dei mostri. Oltretutto sono molto carini, sono davvero molto carini. Quindi non li criticare. Ha un'allergia strana, che cos'ha, Stef? Vabbè, sono pusto, Feren, è molto facile. Basta premerlo un pochettino da tutti i lati e risolviamo. Oh, che bello, è felicissimo. Poi premiamo questo bottone, se ne va contento e abbiamo fatto il nostro primo paziente. Perfetto. Facile, facile, facile. Chiamiamo il secondo e vediamo invece questa che problemi ha. Salve, Anna! Ha un po' di mosche. Sì, dice che non la farò neanche dormire. Esatto, non smette mai appunto perché queste mosche attorno e non riesce neanche a dormire. Questo è un bel problema. Questo è un bel problema. Ma noi risolviamo tutto qui. Sai come? Sempre cliccando. Sempre schiacciando. Sei appusto che mosche basta schiacciare, vero, Stef? Poteva farlo anche da sola, però il dottore è più preciso. Mai non ci riusciva. Il dottore è più preciso. Allora, questa volta c'è una cosa particolare. Dotto che abbiamo lasciato degli insetti in giro e ovviamente non possiamo tenere il nostro banco di lavoro sporco, dobbiamo anche pulire e qua abbiamo l'inceneritore. Quindi mettiamo le cose da bruciare qui, sistemiamo tutto e chiamiamo il prossimo paziente. Carino, carino. Ma, Tater, non riesci neanche a parlare. Io direi che ti manca la faccia. E infatti. Ok. E infatti. Allora, Stef, dobbiamo essere molto bravi perché gli devi fare una bella faccia. Questo è la tua occasione per fargli una bella faccia. Questo è un lavoro chirurgico. Esatto, devi essere molto preciso. Questo è un lavoro chirurgico. Allora. Mettiti gli occhi dritti prima di tutto. Eh sì, però vedi che è rotta tutto il tempo. Eh, lo so. Vedi, Fede, che non è facile. Ok. Carino. Forse uscirà un po' strabico, Stef. Questo te lo dico. No, 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 lo guarda. Ho un occhio più basso dell'altro, però. Non è vero? Aspetta. Questo è il naso. Così. Oh, mamma mia. Cos'è fare questo? Non è niente, Stef. Hai perso i baffi. Sono lì giù a destra. Non li avevo visti. Beh, i baffi ovviamente stanno qua. Ok. E dice, ovviamente ho bisogno del mio capello. Perché è un mostro gentleman, capito? C'era anche io il capello. Il suo rotore col capello. Ho detto, lo voglio anche io. Secondo me, è carinissimo. Io adesso gli faccio anche una foto per Instagram. Allora, no, io devo dire. Ha gli occhi storti, il naso storto, il cappello gliel'hai messo in fronte anziché sulla testa. Però è comunque carino. Può essere contento. Non può essere contento. Guarda come è uscito bene in foto. Dillo a tutti che il nostro dottore è un incompetente. Dillo. Guarda che bellino. Lo mettiamo dritto dritto nelle storie di Instagram. Questa è la combinazione di tutti i problemi degli altri. Jürgen. Come si chiamerà? Jürgen. Jürgen Sifelbim. Mi sembra un nome normale. Togliamo prima le pustole che secondo me sono ancora più fastidiose degli insetti. Poi facciamo schiatare i due insettini. E questa che cos'è? Prova, usa. Oh, ah, giusto. Aveva le pustole anche nel petto. Quindi si è dovuto togliere la camicia. Dobbiamo sistemare tutto noi. Ok, l'abbiamo sistemato. Si rivesta, prego. Può anche andarsene. Noi inceneriamo questa. E abbiamo fatto anche un altro cliente. Stiamo andando molto bene. Ma per ora devo dire... Ecco qua. Salve! Dice, pensa che ho qualcosa nell'occhio. No! Non ti sei accorta che proprio l'occhio non ce l'hai, no? Questo non ti risulta strano? No, no. Vabbè, Steph, abbiamo iniziato con i primi pazienti semplici. Quindi ora è normale che iniziamo a vedere le prime cose davvero strambe. Ma devo toccarlo? Eh no, come glielo vuoi sistemare, Steph? Mi fa schifo. Eh lo so che... Aspetta, sistemiamo questo e che è facile. Ma come glielo rimettiamo? Tirando? Vado? Vado a tirare, vai. Ok. A posto. A posto. Ma è un occhio un po' strano, vabbè. Sembrava tipo di plastica, però... Arrivederci. Arrivederci. L'importante è che siete tutti soddisfatti e che parliate bene del nostro dottore. Salve! Ma uno normale qui? Allora, questo sicuramente non è neanche un paziente, eh. Perché io non l'ho chiamato. E infatti sta dicendo che ci porta delle buone notizie. Ok. E che ha una speciale offerta per noi. Ma quindi che tipo di offerta? Facciamelo un pochettino. Ok, ok, ok. Ci dica, ci dica. Cosa ci vuole offrire? Ah, ci vuole vendere qualche prodotto. Perché lui dice che qualsiasi dottore che si rispetti usa i prodotti della Quack & Co. E i pazienti li amano. Certo, certo, certo. Come mi puzza. Vuoi vedere che ci lasci? Cosa devo farci? Per ora lo lascio appoggiato in un angolino. Allora, che problemi ha lei? Ok. Ah, ok. Ah, forse è un problema. Direttamente sotto, perfetto. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, anche delle ferite. Eh, meno male che abbiamo questi bei cerottini. Dritti, Steph, dritti. Non come la faccia del tipo. Vai. Ci sei, dai. Ce la puoi fare. Ora. Bravissimo, bravissimo. Vai. È difficile anche mettere i cerotti in sto posto. Vai. No. Ok. Ok, ci sono, ci sono, ci sono. Dottore sei che non sta metteremo ancora. Perfetto. You saved my life. Lo sappiamo. Si rivesta pure. E vada. Arrivederci. Se ci vorrei dare qualche soldo che dobbiamo comprare le pozioni, non farebbe scomodo. Ehm. Che cosa è fare? Salve. Ma perché succedono cose strane? Buongiorno. Sì. È molto carino. Ok, aspetta. Dove sta andando? Ah, sta prendendo l'ordine? No. Non lo so. No. Aspetta. Ok, perché ti sei? Si chiama Stine. È un assistente. Ah, è il nostro assistente. Stine. Ciao. Ok. 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 Allora. Ti piace il mio stile? Lo so, sono vestito bene. Grazie. Vabbè, sta dicendo che praticamente è qui per aiutarci anche a curare i mali peggiori. Anche quelli più incurabili. Lui sarà qui per darci una mano. Ok. Allora. Prisbar dice, quacoco order from doctor. Perché? Le loro pozioni alleviano il dolore, ma... Ma hanno diversi effetti collaterali. Quindi ci sta consigliando di bruciare la lettera che l'anatra prima ci ha dato. E la bruciamo, dai. Ci fidiamo del nostro assistente. È più carino lui, quindi mi fido di lui. E poi è stato più convincente, ti dico la verità. Sì. È stato più convincente. Sì, sì. Assolutamente sì. Che cosa ha fatto? È diventato una candela? È pure una candela, ma sei una figata, guarda. Ok. Ok. Ah, perfetto. Ci mostra la salute del paziente. Quindi... Praticamente è una cosa a tempo, Fer. È diventato a tempo, Steph. Muoviti, allora. Devi essere veloce. C'è, aveva le pustole nell'occhio. Che schifo. Meno male che l'ho capito tardi. Vai. Ah, che schifo. Sì, è stato davvero brutto. Ah, ok. Certo, anche il cerottino. Ma sta iniziando a diventare un po' più complicato. Ok. Ora ha il tempo. Devi fare tante cose. Eh, però sono proprio bravo. Ondo c'è ancora? Oh, mamma mia. Ok. Non devi toccare quei cosi rossi che gli spuntano. Ok, perfetto. Per toccarli ora che vedi che non sono più rossi. Praticamente ha ucciso i batteri. Quindi prima abbiamo tolto tutta l'infezione. Esatto, esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, allora si riveste e se ne può andare. Qua abbiamo fatto un lavoro eccezionale, Fer. Sì, è pure difficile. Veloci, precisi. Bravissimi. Cioè, la candela ce n'era ancora tantissima e il nostro assistente è bellissimo. Cioè, io mi sto già innamorando totalmente di questo gioco. Voglio fare il dottore dei mostri per sempre. Sì, assolutamente. Allora, salve signorina. Lei ha delle bruttissime cose. Dice che ha mal di testa, direi. Allora, schmonco pills. Dobbiamo le schmonco pills. Tenga. Prenda. Oddio, Stef. L'abbiamo uccisa? No, Fer. Ok, ci dice proviamo di nuovo. L'abbiamo uccisa, Stef. C'è da dirlo che l'abbiamo uccisa. Cioè, cosa abbiamo sbagliato? L'abbiamo dato la pillola. Secondo me l'assistente non è una brava persona. Allora, riproviamo. Vediamo un po'. Ragioniamo bene e cerchiamo di curare questa paziente. Ok. Ok, vediamo un po'. Ah, allora. Cos'è? Non capisco. Cos'è questa cosa? È per darci le pastiglie. Quello è un dispenser, penso, di pastiglie. Ah, dobbiamo dargli quella giusta. E come facciamo a capire quale è quella giusta? Allora. Cuore più, cerchio più o cerchio colorato? O cerchio rosa. Secondo me è questa. Vai. Mi sembra che stia bene, che sia andato tutto a posto. Ferre. Perfetto. Ferre. Chi è che ha il camice? Eh, sì. No, no, dillo. Sicuramente è quello. Dillo. Non hai preso la pastiglia a caso, vero Stef? No. No, 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 no. Aveva la punta che ricordava il colore di quei cosi che aveva addosso. Sì. E quindi gli ho detto quella. Certo. Sono un dottore fantastico. Ok, salve. Lei è molto sorridente e mi è molto simpatico. I feel spooked. Ok. Allora, quindi vuol dire che ha una presenza strana. Aspetta. Vedi? È figia confusa. È figia confusa. È quella. È figia confusa. È pericolosa. Ok. Dice che ha paura che questo trattamento sarà un po' più complicato. Ok. Ho paura anche io, allora. Allora. Togliamo i vestiti subito e vediamo di che si tratta. Beh. Eccola lì. Oh, che cos'è quella roba? Aspetta, che succede? C'è un terremoto. È perché praticamente è stato posseduto. Insomma, è questo che succede. Arce, praticamente ci disturba mentre lavoriamo per farci sbagliare e cliccare questi. Capito? Ah, sì. Secondo me è così. Ok. Dobbiamo schiacciarla come una mosca. Vai. Dovevo fare sinistra-destra così a caso. Comunque abbiamo dato uno schiaffo al fantasmino e se ne è andato. Se riveste se ne vada pure. Siamo stati bravi anche in questo caso. C'erano molte più cose da fare ma ce la siamo cavata bene. Sì, aumentano sempre di più. Allora, inizia a essere un po' stanco. Però venga paziente, su. Cioè, ne ha bisogno, non sta bene. Allora, sente la sua faccia un po' strana? Eh, sì. Eh, beh, è bellissimo. Questi capelli celestini a me piacciono sempre. Vuole una pozione. Però vedi che ha qualcosa di strano nei capelli? Perché si illuminano, vedi? Non trovi nulla. We use the manifing glass and take a closer look. Ah, dobbiamo usare la lente di ingrandimento. Ecco qua, ecco qua. Che schifo. Ma riusciamo a vedere attraverso. Ma stai scherzando? 1, 2, 3. Ok. Aspetta, 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 aspetta. Allo stomaco che fa strani rumori. Quindi dobbiamo usare la lente. Ecco qua. Ci penso io. Ecco qua. 3. E quante ne ha? Mamma mia, è ridotto proprio male questo. Ok. Trovate tutte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo a posto. Si rivesta, se ne vada. L'abbiamo curata alla perfezione. Arrivederci, grazie. Lei sta benissimo, cari. Non ha bisogno di nessun datore. Non si fuma, però. What a beautiful day. Wow. Ma neanche lo vedi il giorno con quegli occhi messi qua. Allora, ma la sigaretta le ha dobbiamo togliere, secondo te? Buttala, buttala via. La poggiamo. No, nell'inceneritore. Non si fuma. Per ora sistemiamo le occhi. Che qua c'è un bisogno molto urgente. Poi io vorrei utilizzare la lente. Ah, ha bisogno di una pastiglia. Eh, sì. Ah, ci dice quale ha bisogno, Fere. Cuoricino e più. Ah, ok, perfetto. Quindi quella lì. Quella lì. Sì, sì, sì. Vai. Ok, puoi togliere quei cosi grigi. Ok. E questo ci servirà anche la lente. No, perfetto, perfetto. Aspetta, aspetta, aspetta. Questa lì la ridiamo. Tenga. Arrivederci. Non ci interessa cosa fa nella vita privata. L'importante è trattarla bene. Aspetta, dobbiamo scendere. Non c'è tempo per spiegare che succede. No, è lui che sta andando, Fere. Ah, appena tutto che quando c'è lui non c'è l'assistente. Allora, fermiamoci un attimo. Io te l'avevo già detto che l'assistente un po' mi ha puzzato. Cioè, ci ha fatto prendere una pastiglia un po' a casa e ci ha fatto ammazzare un paziente. No, non è vero. Non avevamo vestito le cose noi. Si è sempre comportato in modo un po' strano. Non è vero, è lui quello strano. Ed era un po' sospetto parlando. Anche lui è sospetto. Però non vorrei che sia uno di quei giochi dove quello più sospetto in realtà è quello buono e quello che sembra più gentile in realtà è quello cattivo. Eh, cosa? L'hai bruciato? Sì, sì, esatto. Esatto, esatto. Non l'avresti dovuto fare. Però l'abbiamo fatto. E quindi tutti hanno bisogno delle pozioni prima o poi. Delle nostre pozioni. Perché lui è convinto che le sue pozioni sono davvero efficaci. No, signore. Quindi, se ne vado a pu... Stiamo scherzando? Era un dispetto, Ferre, quello. Era un dispetto. Ha dato una gomitata al nostro inceneritore. Sì. Gli do una gomitata in faccia, Ferre. Era proprio un dispetto. No, no, a me io queste cose non le accetto nel mio ospedale vacuna. Io te l'ho detto che era una brutta persona, eh. Era una brutta persona, una brutta anatra, anche perché è un'anatra, quindi parliamo come si deve. Lui si è nascosto. Aspetta, dovrei forse spiegarti qualche cosa. Assolutamente sì, mio assistente, perché altrimenti non ci fidiamo. Che ci ha dato? Allora. Ah, lavorava per loro, lavorava per l'anatra. Ok. Tutti i giorni. Allora, praticamente lui creava le pozioni, praticamente le pozioni diventavano sempre più efficaci, ma più pericolose allo stesso tempo. Ok, e questo ha senso. Ha senso. Totalmente senso. Quindi, vediamo un pochettino. All'inizio ti senti meglio, ma dopo un po' inizi a sentire altri problemi, poche parole. Come se fosse una droga, perché dice che dopo poco tempo tu senti il bisogno di prendere un'altra dose di queste pozioni, quindi penso che esageri poi con le dosi, ne vuoi sempre di più, sempre di più, e a lungo andare ti danneggiano. Ma ancora peggio allora. Ancora peggio, sì, sì, sì. Tu non stai capendo bene la situazione, Steph. Stai un po' confuso, oggi è la mente un po' annebbiata. No, perché sono ancora sconvolto da quel colpo all'inceneritore, perché non l'ho perdonato. Ho notato, ma lo male è che ci sono io che ti spiego, Steph. Sì, 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 sì. Dopo che ha creato queste lisire, ha capito cosa fa le persone, lui ha deciso di andarsene via, perché non accettava più di lavorare in quel posto lì. Ok, però ancora non ci ha spiegato perché non si vuole far vedere. Ah, che poi non si è licenziato. Ha detto proprio che è scappato e quindi sta cercando un nuovo posto dove stare, un nuovo dottore. Cioè, quindi era un mezzo imprigionato, cose del genere, Fede. Non lo so, però è per quello che si è nascosto, perché altrimenti se lo beccano lo riportano nella, capito, nella fabbrica delle ana tre strane. Ok. Anche perché mi sa che ha la ricetta di questa pozione segreta, quindi evidentemente è di grande valore. Ha rubato la ricetta ed è scappato, ecco, perché lo stanno cercando. Sì, sì, sì. Però sembrava assistente, hai fatto la cosa giusta, hai fatto la cosa giusta. Sì, allora io mi rifido, non totalmente, tipo al 90%, però sono tornato a fidarmi. Lui al posto dell'anatra ha parlato chiaro, comunque ci ha raccontato la sua storia e l'anatra rimane sempre un po' vaga, ha dato un po' la gomitata. Quella è imperdonabile, nemico per sempre, quindi direi di andare avanti così. Bene, se dice così, se dice tutto, lasciateci un bel like. E se la prima volta che avete un nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!